Nei luoghi dove è stato ritrovato il corpo di Melania Rea a seguito di una denuncia sono state trovate teste mozzate di un capretto e di una gallina. Il sospetto, ed anzi quasi la certezza, è che si tratti di riti satanici. Non è la prima volta che in quella zona si sono verificati episodi di questo genere e proprio per questo l'attenzione degli investigatori resta alta. In queste ore i militari stanno ascoltando numerose persone, in particolare i residenti della zona. I carabinieri tengono a sottolineare che non c'è un nesso tra queste indagini e quelle relative all'omicidio di Melania Rea. Intanto la difesa di Salvatore Parolisi afferma che non vi è certezza né dell'ora né del giorno in cui Melania Rea è stata uccisa. Per questo gli avvocati Walter Biscotti e Nicodemo Gentile chiederanno al GIP di Teramo l'incidente probatorio, affinché i suoi consulenti mettano un punto fermo di natura tecnica su una circostanza fondamentale, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per l'omicidio. L'accusa contro Parolisi, secondo i due legali, fa leva su dati medico-legali, contraddittori e inattendibili, come dimostrato dalle obiezioni tecniche della difesa.